Poi ovviamente sono consapevole che permangono dubbi in questa città e anche fuori da questa città sulla realizzazione di quest'opera, ma mi metto nelle disponibilità nelle prossime settimane, forse anche nei prossimi mesi, perché adesso abbiamo qualche emergenza, come voi sapete, da risolvere rapidamente, di parlare, incontrare in questa città, ragionare con le persone che hanno più dubbi, per provare a confrontarci anche sulla valenza e sulla profondità degli studi che sono stati fatti prima di avviare quest'opera, sulla profondità degli studi fatti, dell'impatto che l'opera avrà qui. Quindi nell'accogliere anche con grande umiltà e disponibilità le critiche, le obiezioni, le preoccupazioni e le paure, do anche questa disponibilità a Firenze, l'ho testimoniata al sindaco, l'ho testimoniata al presidente della regione, all'assessore, perché io credo che un cambiamento importante e radicale come questo, che è orientato a migliorare la vita dei cittadini, debba avere anche dei momenti, come si può dire, di confronto e di condivisione vera sui numeri, sugli approfondimenti, sulle analisi che sul piano scientifico sono state fatte a supporto delle opere.